È slittata al 2018 la chiusura dei subtribunali provinciali. Tirano così un sospiro di sollievo i tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, tutti finiti nel mirino della Spending Review e che sarebbero spariti nel 2015. Lo slittamento è stato possibile grazie all'emendamento 3.01 al decreto 1000 proroghe che ha visto come prima firmataria la senatrice PD Stefania Pezzopane. L'emendamento, ha detto, è stato approvato quasi all'unanimità dall'Aula del Senato. La senatrice abruzzese ha ringraziato il gruppo del PD che ha rinunciato a tutti gli emendamenti al provvedimento, ha detto, tranne a questo, un ringraziamento è andato anche ai sindaci di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, agli ordini degli avvocati dei territori interessati e a tutti i comitati che hanno agito in queste settimane a sostegno di questa battaglia. La proroga, ha spiegato Pezzopane, viene concessa a causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi centrali dei tribunali di Lacule e Chieti, gravemente danneggiate dal terremoto del 6 aprile 2019, e per le quali sono ancora in corso i lavori di ricostruzione. Soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanni Legnini. Adesso, ha detto, abbiamo a disposizione circa cinque anni per la ricerca di una soluzione definitiva che consente di coniugare le esigenze di razionalizzazione con quelle dei territori interessati.